Ragazzi, incredibile, ha fatto un'intervista a Yuto Nagatomo, clamoroso, io prima volta da 7 anni, mi sembra, sì, da 7 anni che all'Inter, prima volta che vedo che è Nagatomo fa un'intervista, quindi già questo è un miracolo. Allora, se n'è uscito con una dichiarazione che ha detto, l'italiano medio è un po' così, se tu fai bene sei visto come un dio, se fai male sei visto come un criminale. Io sono stato trattato come un criminale. Allora, diciamo che di base questo discorso può essere giusto, perché l'italiano medio è un po' così, anche io sono un po' così, non proprio come dice lui, però anche io sono un po' così. Ma tu, Yuto Nagatomo, sei l'ultimo che può parlare, cioè tu veramente sei l'ultimo che può parlare, perché tu da quando è 7 anni che sei all'Inter, hai fatto solamente da anni, poche cose buone, ma veramente poche, quasi nulle. Dopo l'ultimo errore clamoroso di Napoli, contro il Napoli, ma che pretendevi? Che te dicevano, bravo Yuto Nagatomo, sempre rispetto per te. Cioè, sei un coglione, te lo dico proprio sinceramente. Che cosa pretendevi dopo quell'errore che hai fatto? Già siamo incazzati neri, già è tanto se non ti avemmo fatto niente, che ti avemmo detto solamente Nagatomo, fai schifo, sei una pippa. Poi è quello che sei, già è tanto, cioè tu rimani all'Inter, devi capire che tu stai giocando all'Inter, non perché lo meriti, ma semplicemente perché perché il marketing, perché tu sei la maglia più venduta in Giappone, mi sembra la maglia più venduta è Nagatomo. Perché è giapponese, allora i giapponesi ha il complamo, maia di Yuto, Nagatomo. Per quello se tengono Nagatomo, raga, perché, voglio dire, no? Anzaldi è meglio del Nagatomo, via, su, ma pure io so meglio del Nagatomo, pure te che stai a vedere sto video sei meglio del Nagatomo, chiunque è meglio del Nagatomo, raga. Cioè, l'abbiamo preso dal Cesena, no? Tutto rispetto per il Cesena. Però pur sempre dal Cesena. Ha giocato solamente al Cesena e all'Inter, cioè, raga, per favore. Cioè, a fine anno vendiamolo Nagatomo, perché possiamo prendere altri bei giocatori che i soldi ve li fanno fare lo stesso, non è che solo Nagatomo te fai soldi. Ecco. Oh, questo ci tenevo a dirlo. E poi, volevo farci un video, perché prima di tutto, raga, non sapevo veramente che mette. Salle 4 e 10, spero che per le 4 e mezzo sarà impossibile che ascia le 4 e mezzo. Per le 5 questo video sia online, anche perché, ve lo dico già da adesso, io questo mese non so, non so, se metterò un video al giorno. Perché siccome sono riuscito a trovare il lavoro, però solamente per questo mese, ok? Perché sono entrato con l'agenzia interinale, come tutti, là dentro, questa fabbrica. Sono entrato con l'agenzia interinale, solamente per un mese ho il contratto. Poi, ovviamente, te lo rinnovano, perché se sei bravo te lo rinnovano, se sei una pippa, te mandano a casa, come dovrebbero fa te, caro Yuto Nagatomo. Quindi, siccome mi alzo alle 3 della mattina la fabbrica dove vado a lavorare a mezz'ora da qui, non è a 10 minuti, è a mezz'ora da qui, torno sempre verso le 2 meno un quarto, poi devo pranzare, poi devo farmi la doccia, poi voglio anche riposare, non è che la vita mia è YouTube. Però, ci proverò lo stesso a portare un video al giorno e ve lo prometto, ovviamente, poi non è che faccio solamente l'orario della mattina, quando faccio l'orario del pomeriggio è più difficile, perché faccio da l'una alle 9 della sera, quindi portare video, a meno che non mi registra la mattina, mi è veramente difficile. Però, vi prometto che ci proverò, non so se ci riuscirò, ma sicuramente ci proverò, anzi, il mio problema è che non ho idee, quindi se avete idee, scrivetelo qua sotto nei commenti, semplice. Quindi, niente, questo qui è il video su Yuto Nagatomo e sul mio discorso lavorativo, ok? Ve l'ho voluto dire perché è giusto che vi tengo informati e non mi prendo in giro. Qui da Smatia tutto, lasciate un mi piace e un commento, fatemi sapere che pensai di Nagapippa sotto nei commenti del grande Yuto Nagatomo che se ne è uscito con la dichiarazione delle sue, anzi, la prima volta che fa dichiarazioni, io non mi ricordo che sia uscito con altre interviste, vabbè. Qui da Smatia tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e niente, bella.